Cominciamo adesso con la diciottesima unità. Che disturbi ha? Senzè ome la sciuxi insia di 18 kè. Ni n'ar' pu shufu? Ome sciuxi insia juixing. Frasi. Che disturbi ha? Che disturbi ha? Non mi sento bene. Non mi sento bene. Ome la canciageli dontsi yun da shi sentire zifan dontsi, sentirsi. Tan yun da zifan dontsi da shiho ta biaus shi desi ganjue, zizi senti da ganjue. Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Non si preoccupi, mi faccia vedere. Non si preoccupi, mi faccia vedere. Ome canciageli dontsi, pre-occuparsi. Ta yun da shi, min ling shi da zun cheng, di zan jeng cheng. Mi fanno male i denti. Mi fanno male i denti. Ho un forte mal di testa. Ho un forte mal di testa. Le faccio un'iniezione. Le faccio un'iniezione. Nel frattempo devo seguire una dieta? Nel frattempo devo seguire una dieta? Cansia, nel frattempo, shi zetsi qi jian, tong shi da yisi. Seguire una dieta shi zi shi. Questa medicina la devo prendere dopo i pasti? Questa medicina la devo prendere dopo i pasti? Può prenderla ogni otto ore. Può prenderla ogni otto ore. Cansia, ogni. Se ta homien, i bantong cheng, kei gen, dan shu, ogni persona. Ho da shi gen, fushu da shu, piallash shi, mei ghe. Siena shu si ha due hua. Dialogo. Signora, tocca a lei. Venga prego, si accomodi qui. Che disturbi ha? Non mi sento bene. Ho mal di denti. Non si preoccupi. Mi faccia vedere. Da quanto tempo ha questi sintomi? ми faccia vedere. Questa mo' payano. Non si preoccupi. Ч Rimini di duno. Diabilir hacia kommen universal. Scri however, putting up for addition. Seguire una cosa non si preoccupi. Ini para 앞鉆除 down hearing. Seguire una cosa non se preoccupi. Di suicide. Li shotgun. Mi fanno un male terribile. Sono tre notti che non dormo. Non ne posso più dal dolore. È necessario fare una radiografia. Prima le faccio un'iniezione. C'è bisogno di una radiografia per questa, dottore? Qual è la diagnosi? Come temevo, si tratta di una brutta carie, però possiamo tentare di recuperare il dente. Allora, vediamo qui. Si tratta di... Il suo significato è di dire... Dovrei usare il trapano? Ha paura del trapano, signora? Un po' Apre la bocca. Ecco fatto. Devo prendere qualche medicina? No, per il momento. Nel frattempo, devo seguire una dieta? Non c'è bisogno, però faccia attenzione quando mangia. Ritorni fra sei giorni. Non c'è bisogno di fare. Faccia. È usato un'iniezione. Non c'è bisogno di fare un'iniezione. Non c'è bisogno di fare un'iniezione. Non c'è bisogno di fare un'iniezione. Perché... Tu fa, lei faccia. Noi facciamo, voi fate, loro facciano. Grazie. Arrivederci. Non dimentichi di fissare un appuntamento. Non mi sento bene da alcuni giorni. Che cos'ha? Ho la nausea. Ho mal di testa. Volevo vedere. Avere mal di qualcosa. Significa cosa può avere tontone. Per esempio, ho mal di stomaco. Ho mal di denti. Si stenda sul lettino e mi dica se prova dolore. Ha la febbre? Un po'. Non è grave. Ha solo preso il raffreddore. Fuma molto? Sì. Un pacchetto al giorno. Questa è la causa della sua forte tosse. Senta, signore. Non fumi più e prenda la medicina. Va bene. Deve prendere questa medicina tre volte al giorno dopo i pasti. E fare questa iniezione due volte al giorno. Volevo vedere. Due volte al giorno. C'è lì da chiengesi. Uno è A. Piace di essere ogni giorno. Grazie. Faccia attenzione alla salute. Esercizi. Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Se non lo detti sia. Ha questi sintomi? Non ci vediamo. Non ci vediamo. Studi l'italiano. Studi l'italiano. Fai l'interprete. Fai l'interprete. Ho un forte mal di testa. Ho un forte mal di testa. Se non lo detti sia. Testa. Dente. Dente. Stomaco. Stomaco. Cuore. Cuore. Nel frattempo devo seguire una dieta? Nel frattempo devo seguire una dieta. Se non lo detti sia. Seguire una dieta. Prendere la medicina. Prendere la medicina. Fare gli esercizi fisici. Fare gli esercizi fisici. Stare a casa. Stare a casa. Stare a casa. Farsi. Dente. Forte. Forte. Testa. Testa. Iniezione. Iniezione. Nel frattempo. Nel frattempo. Seguire. Seguire. Dieta. Dieta. Medicina. Medicina. Pasto. Pasto. Otto. Otto. Toccare. Toccare. Terribile. Terribile. Notte. Notte. Dormire. Dormire. Dolore. Dolore. Radiografia. Radiografia. Dottore. Dottore. Trattarsi. Trattarsi. Carie. Carie. Tentare. 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 Salvare. Salvare. Trapano. Trapano. Paura. Paura. Aprire. Aprire. Dimenticare. Dimenticare. Fissare. Fissare. Alcuno. Alcuno. Nausea. Nausea. Stendersi. Stendersi. Lettino. Lettino. Provare. Provare. Febbre. Febbre. Grave. Grave. Raffreddore. 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 Fumare. Fumare. Pacchetto. Pacchetto. Causa. Causa. Tosse. Tosse. Ci fermiamo qua con la diciottesima unità. Dici bach. Oum giù sucii da zili. Tosse.